buongiorno a tutti ragazzi ecco la milza in formato però savernitana oppure napoletana se volete quindi perlomeno qui la si fa così quindi con la si in bottona di prezzemolo aglio peperoncino e poi la si cuoce nell'olio poi si aggiungono due bicchieri di aceto e un bicchiere di acqua e deve essere interamente coperta e deve bollire almeno per tre ore quindi il risultato finale poi sarà così ma non così perché io l'ho tagliata quindi si taglia si mette nella vaschetta e si mangia il giorno dopo perché così acquisisce più sapore ciao a tutti ragazzi e buon lunedì